Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Azt hittétek, hogy az első koncertünk óta gyakoroltuk? Hát nem! Ezt beszoptátok! A dupla eutonazia zenei felelőse, Verde G. HCHR is drama, Mistress Sodoma. Jóslás és depresszió, Zsidóra Pimplő. Vizuális szeny és bocsok, Terror Rubble. Aztatak nüttγenik! Nagyentek a vyösenyión és mell Cinc estàt.... Gó, meennem ... Egy 3 scenfélnot ... Gó, me Và Tátatá! Sì! Voi! 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 Quando siamo vivi, pensiamo di un'esplosione, e questo è così. Ma abbiamo già già visto l'eutonazione. Il corso è adesso c'è, ma non è una questione della questione. Ci sono un'esplosione, e l'onore? C'è un'esplosione? No, quindi non è un'esplosione. È un'esplosione, perché è un'esplosione molto difficile. E' un'esplosione, ovunque, ma è un'esplosione. Non voglio non voglio prendere un'esplosione. Non voglio che non voglio fare un'esplosione. ad esempio il suo lavoro, è il l'esercito, non ho capito, non ho capito, ma è stato un altro che il loro è stato. Ero l'esercito, così, grazie. Ma voglio che vanno male, non ho pensato. Eccolo a pagare la pagare, non ho pensato. E' un'esplosione, non ho pensato. Ma ho pensato a vicine. E' un'esplosione, non ho pensato. Tu è un'esplosione, non ho pensato. Grazie a tutti!